Stiamo partendo con la governance, il primo di novembre sarà definita e poi sarà una lunga volata, i momenti saranno complicati, però penso che faremo molto bene da qui a febbraio 26, poi sono passaggi intermedi importanti, mondiali di Anterselva, mondiali di Alpino, tutte queste gare di Coppa del Mondo, quindi ci avremo test per capire come stiamo andando avanti. Sono molto contento, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa e quello che ho sostenuto sono quelle testimonianze, sono quei momenti in cui si sente gratificati per magari tanti sacrifici, tante anche cose complicate, spesso difficili da raccontare fuori, che però fanno parte anche del ruolo, uno lo deve accettare con la dovuta responsabilità. Sono proprio orgoglioso di questo premio e credo che sia in linea con questa federazione, insieme abbiamo fatto e sicuramente faremo in futuro, ci dà un'energia positiva per andare avanti, direi più che importante e indispensabile.